Siete bellissimi, guardate verso di me, fuori accenditi i cellulari, sembra di stare a un concerto con la N.A. Vamos, vamos! Vai, 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 continuate, tutti i cellulari e gli accenditi, dobbiamo illuminare tutto con la N.A. Vi prego, vi prego, vi prego, accenditi i cellulari, vi prego. Vai, Gianvito! C'è gente la gioia del collo, Gianvito, il mio piede preferito, Gianvito. Guarda quant'è fila, Gianvito, i suoi amici.